E' terminato l'incontro, questo terzo tempo 1 a 1, incontro di calcio Virtus Castelfrentano femminile contro Virtus Vasto. E' terminato l'incontro per il campionato regionale categoria esordienti Under 13 Fair Play. Fate tutti l'ola, su. Eccolo l'ola. Oh, piazzatevi, aspetta. Ok. Ecco l'ola delle due squadre, questo è Fair Play. Tra la Virtus Castelfrentano e la Virtus Vasto. Ecco, vediamo. Vediamo stola. Vai! Che siete, scorticati? Ok.